Possiamo evitare grazie ma ti picchio pipì Aspetta E già ah ciao già che si chiama nami ciao nami No, no dai no non è possibile Disconness No vabbè ma non è normale Comunque mi sa che c'è qualche problema perché io intanto mi sento laggare sto laggando anch'io a bestia Sì perché sta diventando frustrante Mi sa che è proprio un problema Non c'è niente Buonasera Raynaf Grazie del follo No è una cosa tristissima Ok Ok Eh vabbè ce la sta mettendo proprio tutta Impossibile Tre volte è troppo Io ammetto che può essere un po' fastidioso Appena pena eh Appena pena Ok Ok e fu così Che ritorno No forse 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 Spero che Spero che c'è una piccola Ho una piccola Ma dove l'hanno messo su? Ma dove sono qua io? Ti dica Ecco tu Eh Fantastico Rimarrà negli annali Fai bravo ma fai bravo Ti faccio una strage Dov'è il mio cavalluccio? Cavalluccio Adesso mi avvicino al cavalluccio E da mo' che fischio Guardalo là Come sta dietro? Pensiamo avanti io Benziamo benissimo Opla Ciao cavalluccio Ok Innanzitutto vediamo se sono capace ancora a cavalcare Ma penso proprio di sì Opla Innanzitutto vediamo assieme oma nevica ma che meraviglia a meno nel gioco ma io dico scusa niente vero incastrato in un palo ma c'è a freddo il mio personaggio per obbligare la nuova console a che soldi mi fate spendere un sacco di soldi sono crashato due volte di fila su ghost 50 euro botta è la giornata proprio oddio cosa è successo no no a partito caricamento paura vera per frenare cos'è rb giusto mi scusi avevo per obbligare potete dire anche da me c'è i coglioni adesso non so se sono io che laggo almeno io mi fermo lei cade ma io mi fermo ma mi sento era per il benvenuto basta metto il volo d'angelo ma c'è la cia nera davvero oh non c'entro io non c'entro sto giro per cortesia ero dietro ero dietro oh che vive vabbè giustamente si stancho ma dove va perché va dall'altra parte ma davvero si 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 aspetta aspetta come che si va a tirare fuori l'arma io non mi ricordo più niente con questo giochino qui eh ok mi sta sparando ti leggo salvatore aspetta un attimo una volta che sono riuscita a prendere ok allora guardi non capisco che quale è caduta magari fossero state solo crash anche sulla ps4 invece l'ettore è andato capa o minchia mi è toccato ricomprarlo a 300 euro con la garanzia perché aggiustarla mi hanno 180 euro mamma mia perché non trovavo la garanzia e che questo si è un bel regalo di natale salvatore cazzo 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 ehm le garanzie bisogna avere un cassetto solo per gli scontri di miei garanzie infatti io ho un cassetto solo per gli scontri di miei garanzie che dentro vanno e per i prossimi 10-15 anni la rimangono ehm si si è vero è un inchiostro si è simpatico si no è un inchiostro simpatico che infatti GameStop lo dicono fai una fotocopia perché dopo 2-3 mesi sparisce in effetti basta che lo tieni in mezza giornata nel portafoglio già diventa leggibile cioè il tempo di tornare a casa già già non serva più niente allo scontri no per copa di chi 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 ma si parla di andare in giro con un piccolo zainetto metto tutto uno zainetto ai scomparti apposta eh si vaffanculo poi a casa fotocopia e poi cassetto delle garanzie buongiorno avevo capito che sia stufatti nel gioco? no 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 sono i bug questi bug entro quanto muoio di freddo nel caso aspetta devo vedere come salta come salta fuori mi salti fuori ma non di qui fuori allora 485 ho perso anche dollari 495 ho perso anche tutti i dati perché proprio eh te lo vedo non c'è soldini sono povera non si accende più la schermata solo ah solo di errore sono destinata a morire di division 2 su ps4 no ma salvatore dovresti avere i dati salvati in un cloud non penso che playstation non abbia un cloud dove salva i dati come xbox c'è che se bruci l'hard disk e te cavi l'hard disk però i dati minchia sono salvati il cloud non mi dire sta cosa il tuo accampamento è stato allestito perché se ti devi rifare tutto di division 2 sai che ti dico salvatore sai che piace fare l'eroica prova la versione quella extreme quella che incominci dall'inizio e non puoi morire che quando muori devi rincominciare da capo tutto quanto se tanto rincominciare per rincominciare incominci con l'extreme se devi rincominciare però spero per te no ma oddio mio che rodo sei tremendo ok sono sulla altostrada se usi lo stesso accampamento dovrebbe essere salvo il progresso in teoria eh ops eh ah ma perché io sono in in base in base ring qua è la mia piccola sanguisuga che sta ancora succedendo la banda che che devo uccidere di voi due ahahah 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 rina te ma la vedi la live bene o o perché a me continua ad andare in buffering stessa account stessa account perché poi lo uso con destini dubbo eh ricrossave oh però va che se già un petto che ha fatto il mio ok tu la vedi lo stesso e allora si è il mio nipottino che sta cicciando la banda perché io invece continuo ad andare in buffering almeno la chat funziona l'importante è la chat poi ti e che gli devo sparare sta live anche se sta in buffer queste rossi ma questo non è rosso è l'importante che si vede bene no perché c'è un nipotino da oggi fino al 27 che minciuccia la banda con youtube oh che male ma tua sorella sono ai domiciliari in queste feste ma come sei vestito ma come sei vestito che si guarda nelle tasche altrui oddio no ho tirato su un cadavere così a casa i pitelon e i pitelon l'ho dimenticato l'ipitelon questo è più difficile tutti cambiano tasti e troppi giochi quando usi troppi giochi poi dici ma che aspetta no questo era difficile quello era adesso questo era red dead no quell'altro era odyssey e quali sono i tasti e si guarda che ogni tanto lo trovo in confusione olè ok sì sì c'ho la stellina gialla sì 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 devi dargli il tempo in centro dei ticket offerte ricompense sì sì eh ok adesso sì sì stavo cercando c'è tipo queste qua 3.000 queste intendi no questa no no questa è per il club no 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 sì 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 si Non uscire, ho detto io, mi caccio fretta. No, questa qua è pia. No, 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 no. Ma fa tutto in ritardo. Tutto. Ah, ok. Io tutto quello che devo lo faccio. Insomma, quello che mi dà lo tengo, insomma. No, sfoglia carta. Il mio linguaggio oggi è molto... Tra l'altro si capisce molto, è chiaro, è conciso. Basta, non posso fare altro. Eh sì, solo due me ne fate prendere. Ok, grazie, sì. Ah, la stellina sul primo, cos'è la stellina sul primo? Un cazzo, niente. Niente, mi dice niente, sconti. Sconti di che? Del dollaro è il contrario delle nostre 500 lire. Da noi invece prima erano in carta e poi l'hanno fatte in moneta. Le vecchie 500 lire. Oddio. Guarda quanto devo cavalcare per raggiungermi, mi sono distratta un attimo Due ore, due ore Guarda che sono schianto contro un albero, me lo sento, me lo sento Entusiasmante comunque Ah eccoci, buongiorno ragazzi, penso di essere arrivata, siete voi? E fu così che si trovano in un altro accampamento Chi è questo mino seduto qua? Ti sto ancora cercando io, dove sei tu? Cos'è tutta questa roba messa qua così? Posso rubare qualche vestito? Niente Sì, mi dica Sir Marcus Qui, 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 qui Dov'è Sara? Cos'è giocata nascondina apposta? Eccoti qua Ok Ciao, fatemi mangiare, vorrei ingrassare però Oh, buttiamo tutto a terra perché siamo grizzi così Eccoci qua Ora Ciao, mi siederò un attimino Oh Guarda Che cosa? Aspetta che mi stavo prendendo il fuoco Dimmi Dov'è la cassetta postale? Mark Mark Guarda Tu potete che non giocata nascondina Mi buscate verso cose che io non vedo Guarda qua, questa robina qua Oh Ritira la posta Dove? Ah, lo prendo tutto Ok Posto Ho preso rapido un dolore Ancora? Ah, ho preso tutto ancora Adesso finito, basta? Così poco? Eccomi Scusi lei Voglio anche io l'appigliamento così Voglio l'appigliamento Me lo dissi da catalogo? Fantastico Apri il catalogo Aspetta Eccoci Aspetta che non lo vedo Eccolo là Eccoci Allora Cos'è questa roba brutta? Non c'è altro Così brutta? Come si fa ad andare agli abiti che costano 150 Ah, ok, perfetto Oh Che più belli questi qua Questi più belli Non ce li ho i soldi comunque No Cosa vuol dire Sblocca con oro Ah, cioè Devo pagare con oro No, non prendere con ingotti E quali servono Più avanti? No, comunque non mi fa fare niente Mi dice sbloccare con oro Leggi Volto alla pagina Vicino alla visuale Aspetta Aspetta Cos'è? 19 è possibile? O sono io che non so leggere? Cosa sto 19 messo di così? Ti sei incansato dal disco? Ah, questo qua con il 19 e il 290 Ma non capisco Se leggo cosa fa? Ah, no Ci vediamo Sì, sì, ci vediamo Ah, finalmente sono riuscito a vedere Meglio tardi che mai Ragazzi 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 però è scritto in piccolo Ma si può che non ci vedo Allora, rango 25 Chi che mi ha preso pugni? Ma Ecco niente Posso fare un cazzo insomma Eh, no Per il momento Ma cosa ci prova a gusto? Guardalo Non gli passano i soldi Eh Eh Sì, grazie L'ho visto che dovevo leggere il rango Ci ho messo un po' Eh Io tipo ci metto mezz'ora a reazione E c'era poi dipende A volte capita anche un'ora Che ci metto Ma è importante arrivare Ok, indi per cui Cosa Cosa facciamo? È bello Cioè devo morire di freddo In sostanza Ma sì Basta che mangi Ho la scusa per Sì Sì Mi fa Crea cucina Ok Buonanotte 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 No, non posso fare niente Mi fa fare niente Un po' di culo Ma Allora Niente Non mi fa fare Eh, vedi D'altronde Allora Mi allontano Dal fuoco Ui Dici che Per Natale Hanno Oddio Ho sparato Scusa Tutte le belve Hanno desertificato Gli animali Oh Stavo girando Vediamo Uscire gli animali E Scegliamo gli animali E Tutte le feste Per non si uccide eh giusto tutti più buoni a Natale Natale a Natale si può fare di più che bella che sei ma che meraviglia c'hai il codino che roba bella c'hai il codino mi ricordavo il gioco un gioco così emozionante adrenalinico ma dove si è da finire dove si è da finire sono rimasta sola una donna sola tradita dal paese che ama vorrei di uscire lì prima poi ma Come siamo diventati aggressivi oggi Questo gioco qui è altro che GTA Guarda, guarda La modalità cina Vada solo Oh poverino Ci sono 18 gradi e allora non c'è più freddo Oddio che te l'ho da sbattere Va la la, va la la Ma smetti e tira fuori la pistola Ma che problema ha il mio personaggio So che vuoi sparare Ma che cavallo si è esaltato così? Ciao È pericoloso Ma se Possiamo togliere la pistola di mano per favore Grazie Ragazzi vedo il cielo Perché vedo il cielo? Grazie a tutti Adesso vedo nero invece Io non lo so Anch'io Mi auguro Giuro eh Basta se vedi una luce bianca non andare verso la luce No Torna indietro Ah questo sul treno mi pare Ah questo sul treno mi pare Ah questo sul treno mi pare Buonanotte 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 Grazie per il follow Buon Natale Grazie a tutti Tutto Oh Pandoro Che buoni tutti è Pandoro Pandoro A me fatti cagare le uvette Fa cagare le uvette Io se devo scegliere i cagetti Ah si infatti se dove Perché devo scegliere il maggiuto di due Si è finito Pandoro Pandoro Ripieno di qualsiasi cosa Eh l'avete lanciato con la panna? La panna montata Pandoro con la panna? Sì sì No l'ho mai provato con la panna Allora Con la panna montata Riscatto A vero Iniziato il mio messaggio Cento eh Arraina Poi io stacco Buon Natale Ah ah Oh Oh grazie Reinup Ciao a tutti Allora Nei PS5 Nei Xbox Series X Grazie Reinup Hanno parlato di crossplay Non riesco A capire Se siano loro E Salvatore E' PlayStation Che vuole fare il crossplayer No ma E' PlayStation Che non lo vuole fare Perché Microsoft L'aveva proposto Per Minecraft Cioè PlayStation Ha detto Di no Perché diceva Che Ma Che la Microsoft Come si dice Non aveva tutte Le varie Sicurezze Per i bambini E vale varie E invece E' tutto il contrario Al massimo È PlayStation Che non c'ha La protezione To Microsoft Ci sono proprio Tutti i Parender Controller Per i bambini Eh Cioè Sony Perché è proprio Non ho idea Non ho idea È il bello Che dicevano Ah ci faremo Il nostro Crossplayer Tra piattaforme Ma quello Non è crossplayer Quello è retro Compatibilità Non è crossplayer Cioè Pure ignoranti Cioè Io dico Cazzo Fra console Va bene Il crossplay Tra pc E diventa Aspetta Sara Aspetta Ma la sinner Se no Ragazzi Mi si è staccato Il cavallo Che dove Nia Perché Il treno Sto in movimento Comunque Ce lo faccio caccio io Facciamo così Mi siedo qua Aspetto Continua a zampeggiare Poverino No Eh sì Eh mi ha steso Occhio Occhio C'è qualcuno Stavo quasi Morendo Sarà Sto quasi Morendo Ma questa quasi Morendo Eh no Eh va bene S'ho caduto S'ho caduto Al treno Ragazzi Ti chiedo scusa Ma ho fatto Fuori Devo fare Fuori Due animali Che ho trovato Lei uccida Uccida Allora Marasco Ma non dovrebbe avere Il punto Fortnite E Rocket League Sì Eh quello Lo so È vero Sono gli unici giochi Rocket League È stato il primo Che hanno fatto Crossplayer E poi fortnite Quello non lo so Però è probabile Però per il resto Ci sono tanti giochi Anche qua The Division Oh ma mi sta sparando Che che mi spara qua Destiny Qualsiasi gio Red Dead Ma si chi è? Cazzo console Non dico tra console e pc Ma almeno tra console Così Giocano tutti insieme E la community diventa più grande Non ci fa Console war Si gioca tutti insieme Cazzo Sembra che Sembra che Li costa tanto Sembra che Sia fatto apposta Per far girare la gente Su pc Sia dentro il vagone Uno Però Chi è che mi sta sparando Ma perché c'è gente Che mi ammazza qua? Sei simpatica Mi sei simpatica Si lo so Sto simpatica Un sacco di gente Un sacco di gente Per quello ti sparano Come mi vogliono bene Oh che meraviglia Basta Danni sto fucile Perché Ma dove vai? Ma no Eh capire Ragazzi corri Corri lo so Ragazzo corri Perché se no Muoio Vai vai Amico mio Carissimo Stava facendo malissimo Stava facendo Ma brutto Come posso dire Se deve essere cattiva Non preoccupi Non ti permette Da sparare il mio cavallo E divento cattiva Eh Che fatica Sarà il mondo Ho fatto una strage Ragazzi Qualcuno l'ho ucciso Che felicità Ah eh Vai tu Sarà Perché io te l'ho In mano Cioè io non so Dove sono Dove ero andata a finire Io Insieme ai lupi Ero Cioè ma Sì ma Procaggiato Sono a rete A spararmi Comunque La selvaggina La focaccina Sono andati via tutte Ah E ciap Ok io sono qua Dove c'è l'alone giallo Indy per cui Dove siete voi Ah Capì Ma lord Volevo Volevamo ricordarla così Che entusiasmo Oh T'hai buono T'hai buono Cavallino mio Cavallino mio Fermati Fermati Cavallino Abbiamo perso un altro animale Vabbè ma cazzo Me le sta facendo vedere tutte C'era un cinghiale Ho perduto anche quello Ma Sì Il problema è che io In tutto Eh sono quasi arrivato Sono quasi arrivato Qualt'ora Forse l'ho visto Ma perché da me Non si voglia Non posso uccidere Ma no Che l'avevo ucciso Perché è sparito tutto Io non ho parole Basta Basta Sì veramente Cambia titolo Cambia titolo Ma è una gioia E' un cinghiale E' un cinghiale Oh adesso vedo il cielo stellato E' un cinghiale Festa Sì molto preoccupante Non sto facendo finta di niente Oh, vedo qualcosa E se si fermerà qualcuno? Eccoci Amico carissimo, mi scusi Mark, è in mezzo alle balle, grazie Poi io dico Cavalluccio mio Non capisco cosa c'è dentro i miei abiti Devo seguire la linea azzurra Seguo la linea azzurra Che bella la neve Oddio, oddio, oddio Ah Sara, metti la difensiva Perché siamo Ecco, io sono scesa General Stone Ho fatto un buongiorno Mi scusi Guardo la merce No, non voglio il mangiare Sfogliamo il catalogo Ok, faccio abbigliamento Ok, andiamo di abiti ancora Intanto non può Ah C'ho questo tutto insieme Insomma, capito Ah Eh ma comunque Ah Davvero Mi sa che mi conviene Guardare appunto come hai detto tu Perché qui Il rango è troppo alto Ah C'è, 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 c'è Ah Sfine Mi sento Sfogli triste Ma 21 Qua 43 Sfogli Ma che drago Ma dai 44 25 Va bene Faccio finta di niente Vediamo un po' Ah Vediamo Mi sento tristissima Mi sento Una tristezza infinita Rango 28 Eh Eh L'ho fatto una risa salun E mi hanno insubito Cazzo Eh, figurarsi Se non va a fare qua Io sto facendo compere Qualcosa di Che non posso comprare niente Si è pericato un errore Direte Bene No ma sulla Sul riquadro Della live L'importante è che La chat scopra No E perché c'è poca banda C'è ancora Il La piccola sanguisuga Che c'è la banda Eh Niente Non posso comprare ancora niente Mi dispiace Ma così Ah no Posso prendere un maglione Un maglione Maglione Ma che triste Ma non me lo fa fare Come faccio C'è ma Non me lo fa dire Perché non me lo fa dire Ah visualizza Ecco Ma cos'è questa roba qua No 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 Ma cos' Ma che schifo Non è Non è Non è Fatevi uscire Oh Piuttosto vado in giro Nuda Guarda Nuda Vediamo questa cosa Qua vediamo questa Oh mio dio Ah beh già questo Che roba Andiamo in giro A far vedere la merce No Non ce la faccio Ma Che è successo Qua dentro Oh questo qua com'è Magari questa è bella Vediamo questa qua Tac Sì veramente Ma Ma che roba brutta Vediamo C'è Niente C'è il corsetto Tipo vediamo Come costa Questa qui Da mignotto Ma per amor del cielo Ma che cos'è sta roba qui No 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 Eh infatti penso Perché sta proprio male Proprio brutta Niente Eh no Tutto bloccato Ah questo qua Eh no Questi sono sei lingotti però Niente Non c'è niente per mia Non c'è niente da fare Ah c'è questa cosa Che cos'è sta roba qua Oh rosa Guarda rosa Con su il Ma per amor del cielo Non ce la posso fare No Vado in giro Cos'è sta roba qua Una cosa bruttissima Questa qua che cos'è Ah già Questa è meglio Più decente Ah È da mignotta Ah tu pensa Ma questa è già più carina però Quanto costa Eh vedo che ha capito È una cosa tristissima Ripeto Cos'è sta roba Pantalone borchiato Vediamo cos'è sta roba qua E questo qua Guarda quello che ho Ma che roba Ma che cos'è sta roba qui Niente Sì no perché è veramente triste Mi viene andato Sì si avvia tutto quello che vuoi avviare Che cos'è stato questo sospiro profondo Eh che sto incominciando A lanciare qualcosa contro Al muro E se poi Mi muto Incomincerò a bestemmiare Veramente sotto Natale Dopo anni Veramente mi stanno rompendo I coglioni Ehi bot Chi è Con il secondo personaggio Con la build Che non funziona più Mi stanno Aprendo veramente Il culo Sì 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 No Ma chi spari Perciò sto cercando di fare tutto In Stai con calma Però mi stanno aprendo il culo Perché Tira un bomba a manetta A destra A sinistra Più c'è il medico di merda Che li Riuscita tutti quanti E Cazzo Sono morto due volte O altro che cover shooter Qua push Puttana Poi ci sono I droni Della merda Immagino vedere il Tom Quando è contento Quando gli hanno sfasciato la build Mi sa che non lo sa Perché L'unico che ha risposto Stamattina Al post che ho messo Del nuovo video E' stato Renny Ok perciò Ma chi era che Eravate voi Che mi siete passate All'altra parte No io sono avanti Era Era E chi cavolo era Questo qua Che è passato azzurro Che mi voleva Un altro player Un altro coso Ti voleva Eh ti voleva Ti voleva Rimorchiare Rimorchiare Ha tirato fuori il lazzo Il lazzo Sara taglia A me ce ne fa il percorso La voce alla polizia Ti fa molta Non so Io ne ho visti talmente tanti Che non ho ucciso Neanche uno Imbarazzante Aspettiamo Aspettiamo Magari Quando lo c'è Mark ha deciso Di consegnare Quello che doveva Consegnare E' rimasto lì Questa vagina Morta Non so Mi sento sempre L'ultima arrivata Oddio No Sono caduta Cavallo Scusa Ti sei fatto Amalissimo No Ti prego Ho fatto un jump Di faccia Proprio Questo è stato Sì Infatti ci ho dato A mangiare Prima di partire Per quello che sono In ritardo Eh direi Dico Un po' di Ho tagliato un sacco La strada Anch'io Ho fatto la furfa Infatti sono caduta Cavalli salvati Ci ce ne sono Vedo un gruppo Cavalli salvati Non si uccidono i cavalli Chi è che ti ha insegnato A uccidere i cavalli No no Vedo quelli Ci stanno Però Gli animali no Appena entro Ti vedo volare Va bene Orsetto Hai ragione Vola Ciao Orsetto Orsetto Adesso basta Vedere Tettone Ovunque Ma voi non ci siete Però ci sono i cattivi Dove siete voi Eh sì sì Aspetta Cavallo Vai via Che non voglio Che ti facciano male Ecco Ecco A posto Per sbaglio Eh l'ho mirato io Ho ucciso Quello che non dovevo No no Io ho sottato Perché mi lasciate andare Da sola Perché Che faccio Che faccio le cose Faccio Faccio le cose Sbagliate Adesso cosa succede Ah ecco Mi stavo sentito In cuore Cosa stiamo cacciando Stiamo cacciando Qualcuno Ma quindi E chi devo sparare Non sparo più nessuno Vabbè Vabbè Almeno Non scappa Il bersaglio Sicuramente Ormai Non scappa più Ah Col costello Ma non trovo qui nessuno Dove sono qui Di tutti Eccolo qua Che male Che mi hai fatto Brutto Antipatico Che non sei altro Oh Che tu Ah mi scusi Non volevo Che ce l'avemmo Oh Questa violenza Aia Ah Ah sei vacanza Adesso Sei in piedi Ah beh Però Adesso sei a casa Tranquilla Oggi era l'ultimo giorno Oggi lavorate Ma se quel medico di merda tira sulla testa Oh sti cavoli Ah vuoi tirare su sta testa di cazzo puttana Caduto No è però Fantastico Guarda te se devo andare a prendere un medico di merda che gioca a nascondino Ovunque vado sono entrando una criminale Fa male fa male Questa cosa fa male È intoccativa e criminale in tutti i giochi Ah voi frugate intanto io porto il cadavere Oddio come farò mai Ma quando vibra Eh c'è qualcuno Ahia qualcuno mi sta uccidendo mi sta facendo molto male Ok Ah voi luttate c'è i corpi se ci volete luttare i porti Eh si stavamo facendo E che si stavano facendo Così intanto per Eh lutto niente Chi è che già luttato tutto qua Vuole più nero Ah già è vero bravo Perché non mi ricordavo più che c'erano le croci sulle mappe Vedete Guarda come Frugo frugo Fruga Ah fa male entrare nei fichi d'India Ha fatto malino Ha fatto la bua Eh si ormai c'è non è sangue il crimine Oddio Oddio Mi sta facendo una brutta nomea ragazzi Dov'è mio Cavallo Guarda subito come arriva questa Opla E spara Perché sbagli il tasto Dico io La finiamo Di sparare a muzzo così E io Infatti mi parlo da sola Vedi è brutto quando mi inizia a parlare La terza persona Rimpiti i tupi Via i coni missili Ma non capisco come mai Mi fate scappare Oddio Oddio No vi prego Cavallino Scusa cavallino Di sotto mare Comunque son pericolosa Che è successo Che è successo Perché io sono qui Sapere almeno cosa stai facendo Eh appena Sta scappando perché Per la taglia Eh no perché Forse se la prende Quello Beh Io vi seguo Non so bene Ma era un giocatore O era un giocatore Sì un giocatore Vieni qui Faggio rapido Sinner Vai Accampamento Ok Accampamento Ma sono i veri Inconvenienti Dei veri criminali Quelli feroci Grande orsello Qua i feroci Sono un ferocissimo Criminale Sara Ho trovato un animale qui Scusiamo questo qui Davanti a me Non ti permettere Ma uè tu ciccio Vai via Vai via immediatamente Ti proteggo io Cagnolino Ti proteggo io Bel cagnolino Ciao Ciao Oddio cosa ti stavano facendo Eh non ti trovo animali È il primo che troviamo Dov'è che è Mark Lo faccio fuori Cuciniamo lui Tanto dicono Che sappiamo di pollo No E allora facciamo giù Mark Vai Un besta di neve Sta vivendo Cosa stiamo facendo Dov'è Dov'è Poi orseto dice a me che sono feroce Io mi sembra mica E quali feroci sono altri Aspetta uno la c'è Ah aspetta Eh lo prendo io Lo prendo io Questo dietro Sai che vanno a scappare gli animali Animali Ce n'è un altro Solo uno Adesso io non c'entro Io Tanto consegno Questa che ho preso Così dissero Qui c'è pure la tempesta Di neve Quindi Si vede niente Neanche quello si vede Insomma E se senti anche la Cos'è c'era la campanella Che avvisava Cos'è che era una sirena Bello Si Fate Mi ricordo ancora le infermiere Con le brutte Cazzo Comprimiti a Sarentine A parte che erano malati Chiunque Malati Malati Corri Corri C'ho Kazumi E' lì Ah io l'ho trovato Un'altra qui Aspetta Lo sto facendo Tu Sto ancora cercando I pallini azzurri Dove siete i pallini azzurri Ah qua vedo E quando scappa Scappa Ah ce n'è un altro lì Dove sei? No Dietro Dietro Uffa Se non lo so Ho messo proprio Un pizzico di entusiasmo A fare questo gioco Un po' di adrenalina Vuolete un topo? Cosa ho perso in quella? Eh sarà Cali Cali è quello qui Mi sento adrenalinica Ok No E' stato fatto scappare anche quello Io non so cosa dire Ormai la depressione Aspetta un cervo No Degli animali Nessuno Non riesco a trovare neanche uno E quando le trovo scappano Mi sento triste Ma non c'era sta mira automatica Prima per farla mira automatica C'era una vita e mezza E non me la faceva Ma non lo so Boh Eh non so quanto sia bello E' triste Oh il gioppino che è vita propria Ma porca Ah ma datemi la soddisfazione In questa serata triste Se no non puoi comprare niente Se no non puoi comprare niente Ah 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 Eh non sarebbe mai Ah è divinta che divinta Di che colore Un seppia Sì è Ah Ok 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 qua mi ha evidenziato le erbe Non comprendo questo sfottio così Ma che cazzo le erbe Le erbe Aspetta che prendo le erbe Quelle fanno bene Guarda ha avuto un'immagine Abbastanza nitida Aiuto Invece sto andando a lamponi Teresa Lampone Ma io non lo so Ma questa tante lamponi C'ho fame Ecco qual è il problema Guardala là Meno male che non andavo veloce Se no ero ancora a faccia in giù Qualche problemina c'è Sono tornata da accampamento così Ma si può Va bene Come on 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 è meglio che niente si veramente il top muschiato non c'è la sua la sua la sua la sua la sua Perfetto. Quel che è giusto è giusto. Un po' per uno non fa male a nessuno. C'è me la Meraviglia Di questo gioco meraviglioso Cos'è che state giocando? Spengo, off-line, tutto Perenne Ci disconosce Cos'è che ho detto cosa? Accede il matchmake, ma per favore Allora Vedete 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 ci sono tanti modi di usare le piante aspetta aspetta che ci sono degli animali qui fa la brava un attimo come uccidere ma si trovate le trovate ho appena acceso un animale mi sento l'assassino ok proprio la povertà solo uno l'ho trovato e sono scappati gli altri sono scappati in lascia nati lascia si rivedo rivedo aspetta che miro ne ho fatti fuori due io sono io Sara oppure perfetta questo è sta lì a terra lì vicino Ha 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 ha! ma dai no mi ha fatto per natale questo arrivo subito no no basta viene qui a bongoli e te lo puoi fare automaticamente ah fa niente si sta portando via il mio pacco va bene dove devo metterlo dove è il bancone non vedo il bancone va qua ma io so c'ho qualche problema ok faccio materiali si materiali la carcassa ok fatto no 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 basta si qui 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 Sì Mi arriverà il momento dell'esplosione Oddio Ho l'entusiasmo di questo gioco L'entusiasmo Sì dovrebbe essere divertente Dai dai apriamo un bordello Che meraviglia Eccomi Per tre barra quattro volte In un'ora Con calma Uno per volta Ok Tutti insieme Cos'è l'interferenza? Cos'è l'interferenza che c'è ragazzi? Eh aspetta Tu lo senti Mark? Sì lo sentivo Anche io lo sentivo Vabbè Ok Non si sente più adesso Adesso non si sente più Io non ho sentito nulla Aspetta fatemi mangiare Che il mio personaggio È deperito È sottopeso Crash La regina del crash Sì 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 È vero è vero La sinner Su sto gioco È la regina del crash Adesso sta affogando I suoi I suoi problemi I suoi dolori Nel cibo I suoi dispaceri Eccomi Dai crips Mofte Scusami se Nero dove vado al balcone Questi momenti di gio gioia Dammi sta missione Rifornimento Forza Forza Ciao cagnolino Cos'è Dai che dobbiamo fare I soldi stasera Notte ragazzi Ciao 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 Buonanotte raga Buonanotte Grazie per essere passati E per aver condiviso Il vostro disagio con noi Buonanotte 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 Eccomi Va far la taglia Aspetta Faccio i botti I botti Perché devi fare i botti Come danno Vedo uno che lancia cose E mezzo Che fantastica Ciao 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 raga Buonanotte Sì no con calma Creiamo un terremoto Eh non le uso mai Almeno le uso qualche volta Eh beh è giusto Vuoi non Deliziare la sinner Con codeste manovre Ovvio Aspetta fammi accarezzare il cavallo Senti no si va a consolare Perché sa che Mi sto andando a prendere la taglia Mi sta consolando di brutto Oddio Dai Andiamo a fare la sparatoria Vedi di uccidere Di sfogarti nelle uccisioni Tranquilla Va bene Guarda come sono carica Sì Ma si sente proprio La Non la depressione L'avvilimento Ecco Mi è venuta la parola L'avvilimento Una live avvilita Avvilita Sì Allegria Allora Ah no Ancora non posso farle taglie leggendari Serve per la recuperare Per fare l'intro Delle live Di saggiate Della sinner Allegria Oh di tutti Sono la mia Ho capito cos'è Eh ma la sinner Dovrebbe cominciare a streamare da PC Per fare le sigle Quindi streamare La console La Xbox Posso farlo Ma scusa Eh La No No La console Non posso fare niente Sinner Eh no Però io Aspetta Un momento difficile Certo Comunque sempre PC portatile Da parte Quindi faccio Controllo lo stream da lì No Non c'entra niente Non posso farlo comunque No perché lo tre Dovresti streamare Eh infatti OBS Streamlabs OBS Ci sono i programmi E dovresti fare la stream Da Dal portatile Però dipende Che portatile hai Se No È un portatile Inutile Portatile No Portatile Per il lavoro È per scrivere Cioè Non è Infatti Immaginavo È non Eh no Ci vuole almeno Almeno Un bel 16 giga di ram Almeno Più Una scheda video integrata No È 8 8 giga di ram Un i5 con 8 giga di ram Per streamare un 720 Eh Sì 8 8 8 bastano Guarda Io c'ho il portatile Con gli 7 con 8 giga di ram Va bene Posso streamare un 720 Mandare anche Le song request Con queste prestazioni qui Mi trovo bene Però 16 sarebbe Cioè Almeno Se è tranquillo Lo so Lo so Però dopo Lì deve avere Tutta la scheda grafica Cioè Va sui posti Cioè Per non farla Per non farla Indebitare Per qualche broia Se capita Un'offerta In queste meravigliose catene di elettronica Non approfitta subito Uccidi o cattura il bersaglio Porca merda E su Ma lo è andato Porca troia Perché poi In mano da pc C'hai più cose Gli alert E tutto quanto Non devi stare là ogni volta a guardare È molto più comodo È carino perché è anche divertente Perché Ciao lord Ciao Sì Stiamo casseggiando nel west È più carino C'hai gli alert Puoi decorare la live Decori la cornice Proprio della tua Hai visto Il tema natalizio Pasquale Sì 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 Il resto perché sono invitato per la banda Perché se no Prima c'evo tante cose Sì sì Il nation Tutte queste cose Ma tanto Te l'ho messo a Sara Ah grazie Grazie che me lo metti Marce Grazie Vedi Me l'hai messo Che storto Che sparava Guarda Che è lo stesso Quello che ha la Sara La Sara C'è il gattino Io ho messo L'omino di PUBG Con la maschera Che sparava Sì io ho messo il gattino Perché è carino Ognuno si mette l'animale Che vuole Ce ne sono tanti I traghetti C'è proprio il sito C'è quello che vuoi C'è il panda Il panda rosso C'è l'alce C'è Il Vabbè Le varie tipi di cane C'è il procione C'è Sì 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 C'è 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 la roba C'è la strega C'è la strega C'è il draghetto C'è l'unicorno C'è un'azione Da scegliere Che bello Così però Eh sì Dovrei Eh È tutta un'altra cosa Eh sì Ma perché quello lì Proprio provato Non mi regge niente Con il PC lì Poverito Eh Se dici che serve Per lavorare Per scrivere Sì Non Ne l'ho fatta No Non gli mettere Non gli caricare Nemmeno PS Perché te lo fonde No 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 è vero È pesante Che come Dopo Sì Sì lo so Lo so Stia Dopo diventiamo Nara Diventiamo Risponsabili Per la volta Che ci vanno Davvero Ci vuole Un portatile Impressante Perché Ti lo dico io Che ho Questato Per un portatile Per streamare A 720 E poi Vabbè Mi sono fatto Il cifisso Per Per lo streaming Però Inizialmente Ho cristato Anche sempre Per avere Un portatile Di 100 Per poter Streamare La linea Portatile Non sapevo Quale era Peggiore Poi Sono riuscita A decimulare I soldi Ho fatto Un RPG Per lo streaming Che poi Mi regge Anche Minecraft E tutta L'altra cosa Babbino Allo stesso Però L'hai preso? Un culo Sì 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 Ho fatto L'ho anche Calpestato Con il cavallo Giusto per essere Sicura Che non scappi Via Oddio Sta fermo Sta fermo Ok Sta volando giù No la vera La vera offerta Quella che ero riuscita a beccare A beccare Io Ma era un sottoposto Un i7 Con 8 giga di ram E 4 giga di scheda grafica Minchia buono Sì portatile Eh buono Infatti L'ho chiappato L'ho chiappato al volo Eh quelle sono offerte Da prendere veramente Che cazzo si eh Ho aumentato il legame con il cavallo Hai visto? Che bella Che soddisfazione Ovviamente io ho sparato due persone E basta N'importa E ho continuato a cavalcare Così Cripte frenete Dov'è che siamo Siamo finiti Oh Andiamo al viaggio rapido Qua su in cima Via 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 Ma scusa una cosa Dica No Mi è arrivato il messaggio strano Da Bartolini Ma chi è il corriere Eh ma Quelle sono Non ho ordinato niente Non dire in live Che cosa ordini Su dai Che dopo più la gente Non ho preso niente Ma ti arrivano i messaggi A mezzanotte e un quarto Chissà che Che pacco Chissà che pacco Che hai preso Che pacco Eh Non ho preso niente Anche dalle due parti C'è Bartolini Sì A me è quello È proprio È proprio Bartolini Che ha lasciato La tasiera Fuori dal potone Porca puttana Ma no Questa roba non si fa Pezzi di merda Mi rimane che abita Tra un piano Perché questo È un postaccio di merda Vieni di ladri Che appena vedono una cosa Che Che tira su Eh no Bisogna stare attenti Non è che puoi lasciarlo Così in questo dito Ti sticasse Sono riuscito a uccidere Allora Mi sta Sì 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 Come si dice Me lo consegna a mano Non mi fai filmare Vabbè sti cazzi Ma che me lo lasci giù Poi Mi parte l'embolo Dopo Di quello che Che mi hanno spedito Io non ho ricevuto niente Perché io non ho firmato niente Che cazzo volete Se forse i corrieri Sono disonesti Che appoggiano la roba E prendono e se ne vanno Non è mica colpa mia Eh cazzo Oh ma ragazze È male Cioè Voglia di lavorare Ma più che Proprio la mancanza di rispetto Eh qui si Nero Viaggio rapido Perché porca troia Sì veramente Accampamento Sì Cioè è un attimo Che ti fregano la roba È un attimo Poi così Incustodita Fuori Fuori da una cassetta Della posta Sì fuori No proprio appoggiata al portone Dì perché non ti conosco No perché Noi la posta Ce l'abbiamo all'interno Del portone E come si dice Perciò Una volta che entri Che appoggi Se lo ruba Lo ruba uno del palazzo Cioè È facile dopo capire Chi è che è stato a rubarlo Ma se te la lasci Proprio fuori dal portone Può essere chiunque Hai capito? Certo C'è una mista Che stronti Non so No Adesso gli porto L'ultima carcassa Così finisce di produrre Voilà vaffanculo Ma è neanche scappato l'altro Intanto questo ce l'ho fatto Questo cervo della cuira bianca No perché un po' di materiale ce l'ha Un po' di materiale Sì sì ma deve arrivare a 90 Deve arrivare a 99 barili A 99 ci dà la missione rifornimento E a 100 facciamo quella dei soldi A 99 facciamo quella dell'esperienza E a 100 i bagiocchi Almeno ne vale la pena Boh Cosa c'è signor? Ho freddo Ho molto freddo Vai vicino al fuoco Molto freddo Mi siedo Mi siedo Riposa vicino al fuoco Devo guardare un attimo E' abbassare Una coda bianca Dai Crips Produci Produci per noi Ci servono i soldi Ai Ok Ok Vi rompo Sospesa Via missione Mark sei pronto Missione rifornimento? Ah sì 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 Perfetto Vamos a fare esperienza Aspetta che fischio Al mio cavalluccio Cavalluccio Olè Ah in movimento il carro Ah voi l'avete già Io ancora sono filmato Ancora lo da veda Allora Il carro è di qua Vamos Vamanos Vai 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 Corri cavallino Corri cavallino Corri cavallino Dai Voglio l'esperienza E voglio i punti Adesso Voglio i soldi Adesso Adesso Hai capito? Mentre siamo in missione Beh ovvio Bastardi E' così che si fa Paranda Ma come funziona Che in una maniera Comunque è grave Che in una maniera Nell'altra Mi scoperto Il mio giunto Insinno Sulla minimappa Te basta che guardi Quella ruota bianca Non so vedo Io perdo lo scherzo Non ti preoccupare Che non scappa nessuno Posso uccidere tutti Pure no Sì 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 Ok Mark falo salire Fala serie Se no Se no Poi un'altra cavalcata Splera Sali Sinner Eh lo fermo Sì schiantata Scusa cavallo Mi si è fatto male Oddio vai Sinner Sali Sali sul cavolo Sul cavolo Vediamo se può salire Sul cavolo Può salire dietro? No No Non può salire dietro Salgo sul cavolo Vai E adesso Se fai un fischio Vedi che ti segue Il cavallo Se fai un fischio Che bello Ecco Le cose piacevoli Le cose che ti sei Che carino Mi sei quel cavallo E di legame Quello vuol dire Per il legame alto Guarda che carino Che carino È proprio bello Tattino Un certo Sara Uccidilo Dove? Cervo Uccidi il cervo Posso uccidere il cervo? Almeno Pado Il cavallone Ma via La donna È anche agonizzante Via 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 Carica 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 sul cavallo Carica sul cavallo Cavallo fa cose Senza Cosa No E va bene Non è possibile No marca Aspetta Aspetta Prima di Prima di consegnarlo Vediamo se Se ce la fa entrare in sessione Sì sì Vado lì vicino Esatto Aspetta Sì ma non è normale Vai Sinner Ripenetra Cerca Cerca Di 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 No No Veramente ci sono Di Di problemi Troppo Grossi Porca Troia Cazzo No A giocare così Fa Enervosire No Stiamo Poi Esagerando Dio Bo No Ma Ti 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 capisco Porca Troia Cosa ti ha detto Errori di connessione Errori rockstar Sì Mi ha fatto Attenzione Sei stato disconnesso Dal Ok Dal Red Non l'avevo capito Che Stanno Cazzo Stavo disconnesso Speriamo Un'attenzione enorme Speriamo che ce la faccia Porca Troia Da 7 minuti e 20 Speriamo che ce la faccia Basta che rientri Rientra nella posse Tanto spawni di qui Allora Non so se può entrare Se sono in missione Se entrò stesso Orca Troia Se la fa entrare Sto cercando di fare Il più veloce possibile Ma qui Niente Allora Fa una cosa Niente Ho capito È vero Perché noi siamo in missione Giusto Aspetta Intanto guardiamo Aspetta Prova Si può entrare Esatto Esatto Provo Vedo Fermo Appena decide di muoversi Tu fai Col menu a sinistra Entra Con la freccia a sinistra Entra nella posse Ma dove vai sul catalogo Ma siamo seri? Esci 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 No Perché Perché Dobbiamo finire la missione Vai Vai È finita la missione Dopo avvio Dopo avvio Quella dei soldi Allora Vai a caga No Non ci credo No Non ci credo Che Rockstar No No Ok Guarda Porca Troia Anche l'esperienza Guarda adesso Se puoi unirti E disagiati Non ancora Se riesco a chiamarti io Giocatori Invita nella sessione Ok Adesso ti arriva l'invito Allora Mi capito Ok Ok No sti cassi Speriamo di farlo L'invito Aspetta 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 Nel menu a sinistra Nel menu a sinistra Nelle frecce Mi ha fatto aprire un'altra cosa Vabbè ok Siamo a perdere Inviti Ecco Posso farcela Speriamo di fare La frustrazione Ormai alta Io infatti Lo sento Adesso spero che vada bene Quella dei soldi Porca Troia Almeno quella dei soldi Così almeno Non puoi dire Che non hai soldi Per comprarti Che è un peccato Però che fa così Comunque No lo so Madonna Che roba stronza Che roba stronza Come si diverte No ma poi Quinta volta Dai Sì Quinta volta Fa girare il cazzo Già fa girare il cazzo La terza volta Figurati la quinta Figurati Cavallino mio Ok Si è respawnata Come maneggio bene le pistole Sì infatti Vedo Vedo Lo sburone Vedo In te lo metterai Sai pure tu Puoi farlo No io adesso sono qui Su crips Che lo sto monitorando 98 barili 99 100 Dai Appena arrivo a 100 Porca Troia Faccio subito la mega consegna Speriamo che vada bene No lì se crash Stacco anch'io dal gioco No se crash Stacco anch'io Perché a me Io voglio giocare Per divertirmi Non davvero Non per esclerare Oppure per costringere La gente Ad incazzarsi Assolutamente no Finché No Finché si ride Si scherza E ci divertiamo Tutti insieme E un conto Cioè Non sono Egoista O cretina Ci mancherebbe Finché siamo tutti insieme Che ci divertiamo Ok Siccome stasera Sta crashando Solo la sinercat Quinta volta Oh ragazzi No Quinta volta Gira il cazzo Chiariamoci Un attimo Se crash Anche stavolta Chiudo anch'io Stop Eh Perché Ragazzi Se Rockstar Non fa manutenzione Ai server Oppure Non lo so Non lo so Perché ci sono Dei B Cioè Sinner Prima Non era nemmeno Da sola Era sul carro Con Mark Non aveva Non aveva senso Sì Infatti è appena Scomparsa Non l'ho vista Scomparire Sono scomparsa Volevamo ricordarla così Un momento c'è Un momento non c'è più Oh dai No 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 Assolutamente Qui serve Monotensione Serve stabilità Io serve Tra 53 minuti Vai Ah pure Su The Division Pure Su The Division Ma che bello Ma ci sono i server A livello mondiale Mi sa che c'è qualche problema Aspetta Sara Sara Eh Eh Sì Un riaviano Atalizio Scegiamo Fermo 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 Aspetta Che sicuramente Dovranno sistemare Così Staccano Riattaccano Vabbè C'è 53 minuti Per fare la build Ma però Non l'ho capito Mi manca un pezzo Eh portilo Portilo Fermo Fermo Sì Sì Me lo ti da l'esperienza A te te la da Grazie E tu cosa fai Se ai piedi Eh no Mi chiama a cavallo Dopo Lo chiama col fischio Non ti preoccupare Non rimane a piedi Vai Siner galoppa Galoppa Verso l'appartamento L'accampamento Fai veloce Che nel caso Mi ne ho consegnato Quello Vai C'ho la consegna C'ho la consegna Disponibile Ne sott'aspetto E poi dopo Viocripso Brutto Stronzo Se crash Stavolta Stacco Punto Non esiste Stacco per solidarietà Perché non si fa così No no Ma scherzi Questa è una missione Lei si becca 300 dollari Con sta missione qui Se va a buon fine Quindi vediamo di non rompere i coglioni Con i server Ok ho dato la carcassina Sì Liberi tutti Faccio partire la missione Sì Fai partire la missione Ok Avvia consegna lontana Via C'è finito di parlare? Adesso si Nel sale insieme alla sala Sali Carro Oddio Così almeno Va bene Va bene Eccoti qua Pronti Buongiorno Schiantati Schiantati di nuovo Ti prego Ma le merci Stavolta Stavolta non ci sono merci Mi sta uscendo il cavallo No 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 Non succede niente Mark riesci a metterti giù Ah si Accucciato Ah si si Sto accucciato Sto accucciato Perfetto C'è due di solo lui che vola In levitazione Ma a te Sinner come lo vedi Mark? Le vedi le merci? Lo vedo Vedo che saltella sui giù Però vedo che le merci Ah ecco io no Io le merci non le vedo Che bello Che bello Sti aggiornamenti di merda No Niente È caduto Merda Ok va bene Io voglio il carro Per poter viaggiare tutti insieme Porca troia Sinner vuoi provare a guidare? Vuoi provare a guidare? No guarda Vai pure Mi piace fare il Non vuoi provare Lebrezza Di guidare il carro? Che se si spacca Perdiamo tutto E perdiamo anche la ricompensa Ecco per favore Vorrei evitare Adesso sono Dieci minuti Di viaggio Dall'altro campo Sì ma no È bello lontano Sì E questo è il momento Just chatting Di tutto il gioco Potete parlare di Quello che volete Occhio Se c'è il giocatore Le persone Possono rubare Trane di politica Tra Di quella narra politica Non è Di quella abbiamo parlato stasera Abbiamo già dato Abbiamo già dato Abbondantemente In pre live Stava partendo l'embolo Allora abbiamo detto Cioè stacchiamo Poi attacchiamo la live Porca troia Forse è meglio No per carità Mani nei capelli Questo qua Me lo da rosso Io ve lo dico No 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 Non ti preoccupare È un NPC Non fa niente Non ti preoccupare Io punto Ma lo sparo Calma Tranquilla Rilassata Restira Soldi facili Sono Soldi facili Come diceva Terminator Soldi facili Soldi facili Non ti usare il computerino per hackerare il banco Esatto Quello lo volevo anch'io Lo volevo L'abbiamo sognato tutti questa cosa Dio Quello sbandato Porca troia E con quei 300 dollari E' andato in sala giochi Niente 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 gioventù Che non sa investire niente E' avendo Aspetta lì è normale Dove va in sala giochi In sala giochi Certo Gaffroi Eh ma hanno regalato un panettone vegano Sei vegana? No Cosa c'è dentro? Il cioccolato? Il tofu Il tofu Il panettone è ben vegano Il tofu colorato È vegano perché non usano se non sbaglio uova Sì infatti Cosa l'hanno fatto senza uova? Che bella merda che sono Ci sono delle proteine della soia Sì Certo Ah che hanno lo stesso sapore Io la soia la mangio Ma cioè Ma giusto così Ma mica nel panettone E devo provarlo che mi hanno upitato In poche parole È un panettone che sa di soia e non di panettone No E ti dirò che l'ho mangiato Per me è più dietetico secondo me Però È come la bistecca vegana È come la bistecca vegana Che sembra una bistecca ma non è una bistecca Ti dico Così per Ma Sporadicamente Per assaggiare E alla fin fine È un hamburger vegetale Tranquillamente ci fai il panino Cioè lo cuoci in padella Fai quello che ti pare Però Cioè si sente Non ha minimamente Neanche lontanamente Il sapore della carne o altro È roba È roba vegetale Aromatizzata Perché c'è un sacco di aromi Per renderlo appetito Si mettono sempre un sacco di cipolla Tra l'altro Ecco Beh certo Per nascondere il gusto È la soia Cioè ragazzi Alla fine la soia non è che Ha tutto questo gran soia La soia è erba Cioè è vegetale È insalata Non è che te ne puoi fare una scorpacciata Dopo un po' di stomaca Quindi la devi aromatizzare Devi per poterla strozzare Vuoi essere vegano E ti fai il hamburger Ma allora Vuoi la forma Della carne Maggiantina carne Non ho capito E no perché cercano di Come si chiama Subiturire le proteine animali Con gli insetti Ecco nel tuo hamburger vegano Ci sono gli insetti Ma per amor di Dio Ci sarà qualche cavalletta Qualche addome di cavalletta Dai per favore Ci sarai Ma dai su Scolioni Ci saranno E che? Amole? No lo scolpione no Nara Perché le laccherebbe La 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 Il carapace Il carapace Sono robe molli Tipo larve Addome di cavalletta Vermi E bigattini Però lo scolpione Potresti aprirlo E mettere dentro il Il resto no? Lo scolpione Se mangi tutto C'è come il gambero Ma che Mangi l'interno Non è diverso Lo scolpione Non lo so Non lo so È un livello È duro Hanno provato a tenerlo Una settimana Nell'alcol Ed era ancora vivo Tranquillo Lo scorpione È peggio dello scarapace Lo scorpione Schifo Sì è una cosa amicidiale Ma poi Ma guarda Mi pensa che una volta Sono andato Sì Vai dimmi No no Che il carapace Dello scorpione È veramente Veramente È come il carapace È peggio Del carapace Di un granchio Capito Di un crostaccio Sì che quando Ci devi essere sicuro Di per la manca Perché più delle volte Magari fa finta Di essere morto E poi alla fine Mi ne lazza Che tipo Pure No no Mi dispiace Una meraviglia Troche Allo scorpione No no Siamo cosollivati Siamo cosollivati Solo Perfetto Solo roba e molli Quindi te Sinner controlla Se c'è dentro Qualche larva No guarda Una volta Sono andata a mangiare Vabbè Al bar Alla Bresaula Con la rucola E grana No Inizio a mangiare Scricchiolava Dico Sarà la rucola All'ultima fetta Guardo Mi c'erano i cagnotti Cosa sono i cagnotti Le camole E le larve Ah le camole Le camole Ok Le larve di mosca Le larve di mosca Le camole Praticamente Ho mangiato tutte Le larve di mosca Buone Buone Proteine 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 Sei già predisposta Poversi quella roba nel piatto Sono rimasta ferma Un minuto Però Se te va in Sardegna Loro c'hanno il formaggio Che cammina Il formaggio Con i vermi E sono camole Alla fine E se lo mangiano Oh che buonissimo No no Ti assicuro che fa schifo A meno La sensazione di scricchiolare In bocca Probabilmente erano anche Vidi C'è chi dice che è buono Che se lo mangiano Io ci sono amici sardi Che dicono che è buono Ecco no I vermi te li mangi te Io mangio il formaggio Che fanno giù da me Di capra Che buonissimo Quello di capra Quello di capra è veramente buono Il caprino Si si Ma signor vieni qua in fondo Mia nonna faceva proprio Formaggio di capra Vabbè quello che è buono Buonissimo Ma dove sei? Ma io stavo seguendo Ma il formaggio che lo metti in tavola E devi stare attento Dove cammina No eh Mi dice Oh stai fermo Mamma mia Che schifo Comunque mi sono bevuta Due litri di coca cola Per mandare giù Cos'è? Là è il bello struratore Hai dovuto Si si quando ho visto Proprio due litri così E proprio a bere a random Oddio Cazzo la coca cola è acido Cioè E' E' il laboratorio chimico Allo stato Doveva risacquare Appunto Doveva stirare le tupature Oh Per carità sono proteine Ma anche no Ma Di re schifo Devo vendere tutto questo Vendo tutto quello che ho da vendere Eh si si No nella parte Nella parte dei gioielli Si si hai fatto vendi Si ho Si ho fatto vendi Ho fatto vendi Ok lo faccio vendi tutto Si si vendi tutto Non ho venduto tutto Eh si Vendi tutto Ok Ah no ma vendo tutto Ma dove sei Va bene Eh si una alla volta Devi vendere Ah pensavo Sto Madonna quanto sei bello Quanto scodinzoli Amore Amore mio Bellissimo Che sei Ciao Ok Ok adesso stiamo tornando a casa Allora Adesso quanti sono dietro Dovresti avere 300 dollari Rotti più di prima Aspetta che Mark sta facendo una strage E poi mi ci trovo in mezzo io Aspetta Ma guarda cosa sta facendo Ma si può fare tutto sto casino Adesso ti puoi comprare la tenda Mi sa Puoi venire da Crypt Ti puoi comprare la tenda Da disagiata Bene 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 Dai Adesso ti aspetto qua Sì perché te c'è ancora C'è il sacca pelo Che non ti ripara nemmeno dal freddo Ma come mi fate a caricare le persone Per buttarle a terra Con la B Con la B Ah così Vai vicino Vai vicino E inizi la rissa con la B Ma ci stanno sparando No non è che Mark sta facendo un casino della madonna E mi ci trovo in mezzo io Ma come funziona qui Dov'è il viaggio rapido? Preferirei che questo Ma guarda Vedo però che hai picchiato pure tu Dai Ti sei divertita Sì Sono in realtà ricercata adesso Mark che cazzo mi fai fare Mark dove sei? E lui ti fa fare i danni e poi scappa Mark vai dritto lungo quella strada Vai dritto lungo quella strada Ah ok Oddio Aspetta che sta sparando Ma basta Scappa 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 Via Guarda come l'ha atterrata Guarda che sta sottata Meglio che equipaggi il coltello comunque se devi fare Vai nella ruota Ah ok Dov'è la ruota? Dov'è la ruota? La ruota delle armi Ah ok Mark aspettami che salgo in braccio a te Vieni qui Vieni qui Vieni qui che sono ricercata Mi hai fatto fare un casino Lo ritranquillo come i cazzi miei Vieni te lo ritranquillo Ho cominciato tipo sparatoio Lui che correva Ammazzava tutti Mi hanno dato la taglia pure Esatto Mark Dai veramente Porta la via da lì Ma sì ma vai al viaggio rapido Vai al viaggio rapido Eh sì Aspetta lo scarato Devo fuggire dai sceriffi Sti cazzi Una scazzottata ogni tanto fa bene Guarda Ho visto infatti lei era molto contenta Non sapeva più Era molto contenta di andare in giro E che parte di girarsi Non lo sapeva più E che non si può abbandonare Compagno lì Se uno sta combattendo Uno ci deve andare da parte E che se no È giusto Allora vengono Ah sì sì scendiamo Viaggio rapido Accampamento Sara Non sei andato Sì 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 Mangia Mangia Rifucillati Ma scusa tu quanto? Ma mi ha dato il possibile 10 dollari d'italia? Sì A parte per le valla Sì è rimasto che vai sulla cassetta qui Poi fai paga Ok cassetta di sicurezza Paga la taglia Va bene Mangia Mangia La pagata? La pagata Ok Mangia Mangia Che sei sottopeso Mangia Non faccio capire se sei sottopeso Re È dalle mie statistiche Ecco vieni qui alla cosa Vieni qui alla Anzi mangi allo stufato Poi vieni qui alla Alla carovana Alla bottega itinerante Guarda Alla fantossi proprio Fantossi proprio Tu mancia Eccomi Tu mancia No Tu mancia Ecco sono qui E cosa faccio? Vado Bottega itinerante Ok Poi aspetta che entro Anch'io Così Partiamo dal menu Tenda Quello che hai Allora Tenda Cosa c'è scritto sopra? Tema? Cosa c'è scritto sopra? Sì Tema Tema Esatto Devi fare un tema Come le tue impressioni Di Red Dead Ok Fantastico Guarda Oggi non ho la simpatia Quindi potrei essere cattiva Una recensione Allora Coperta da campo No è tutto bloccato Ma scusa Ma scusa A rango 15 Io che rango sono? No 14 La tettoia Cioè la tettoia Te la dà a rango 15? Sì Che roba struzza Porca troia No dai Per un livello No no Mai una gioia Ecco questa è la conclusione La conclusione Del mai una gioia Veramente Vado Vado via Perché è diventato tutto nero? Oh che paura Ecco Infatti vedi Se la guardi in faccia Il mio personaggio È proprio incazzoso Guarda lo dice Che tristezza Non ci credo Non ci credo Per un livello Per un livello Ma chi lo dice? Porca troia Ma dunque Fa vedere un attimo Dunque schermata Fa vedere Giocatore Allora scusami Vai un attimo Premi un attimo Start Sì Vai alla Scritta giocatore Ok Premi sulla tua Meravigliosa fotografia Va bene Ecco Nel primo tassello Nella prima schermata A sinistra C'è scritto Generale Peso Temperatura Rango Ecco Prossimo rango Quanti punti esperienza Sono? 19.675 Più? Io ne ho 19.559 Quindi quanti Te ne mancano? 200? 200 punti? Ah forse 100 scusa 120 Facciamo la taglia Facciamo la taglia Tocca arrivare Tocca arrivare al 15 Non te ne puoi andare senza la tettoia Non te ne puoi andare senza No 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 Ah Sara salite Facciamoci Facciamo un viaggio in carro Sì ma Marco invece andiamo Andiamo a Stacca Di taglia E faccio una leggendaria Da 5 stelle Porca troia Eh Ci andiamo col carro No? Facciamo un viaggio Fammi segnare la strada Fammi segnare Arrivo Arrivo Pronti Vai Saliamo in carrozza Ecco fatto Buongiorno Madonna mia Certo che ha fatto il viaggio così No mi viene da ridere Io non riesco a guardarti in faccia Un attimo che mi giro Sei un po' arrossato in viso Non riesco a guardarti in faccia Mi viene troppo da ridere Mi sono girata No Si è rigirata la tipa Fammi guardare altrove Porca puttana Te dovresti vederla tua tipa in faccia No l'ho già vista Mi è passata una volta Di cazzi No niente Ah sì ok Riesco a guardare Ok Gira quello sguardo Gira 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 lo sguardo Vieno Sara cambiti posto Puoi cambiarti posto Eh vabbè come siete cattivi Tu Mark Sei tornato davanti Aspetta Ma perché non posso andare Non posso cambiare sedile No Niente Tu davanti a me devi stare A posto No 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 Volevo venirle di fianco Niente Niente Mi tocca stare Niente Devi stare qui Via Via Mai una gioia Mai 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 No è proprio così Adesso no Tocca far sta taglia Adesso ci penso io Ok Faccio l'uomo lupo No no Non posso fare l'uomo lupo Per via dei vestiti Porca troia Via Ci penso io Faccio una taglia Cinque stelle Oh Mostra taglie leggendari Perfetto Mi raccomando Mark picchia tutti Mentre aspettiamo Così per fare qualcosa di più Mark che dici Facciamo quella delle Quella delle donne Di Etta Doyle Quella lì Quella col occhio di vetro Te la ricordi Quella col occhio di vetro Che aveva tutta la banda Delle donne femminili Che Toccava aspettarli Camperati Dentro Quante stelle ce l'hai Do come sa Cinque Cinque stelle Proviamo Dobbi Questo qui Aspetta Altrimenti Le cinque Cinque era facile Ti ricordi che toccava Riconoscerla Era quella Con la camicia azzurra Che toccava Riconoscerla Eh sì 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 Alle donne camuffate Proviamoci Proviamoci Cinque stelle Se ce la facciamo Alla prima botta La sinner Fa subito il livello Il problema è che I nemici I nemici Sfanno male Eh lo so Lo so Te sinner devi stare Camperata Esatto Te sinner devi scappare Te va a tenere Te va a tenere Ma scusa Non posso uccidere Né che nessuno Che ingiustizia Mi imbusco Povera me Adesso la facciamo La facciamo camperare Da qualche parte Questa vuole Un tipo Che tutti gli uomini La vorrebbero Sì 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 Madonna La donna più desiderata Dagli italiani Meraviglia Madonna mia Sti caricamenti Io spero che Il prossimo anno Devono volare Devono Con la nuova console Beh con l'SSD In teoria Dovrebbero essere Più veloci I caricamenti Porca troia Ma anche col processore Che ci metteranno Sì Vai Ma che bella È bellissima Bellissima Una bellezza rara Dai Dai Etta Pugnetta d'Oil Dai Cazzo ma C'è sta neve Ma mamma mia Troppo 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 Mi rovina Tutta la bellezza Del paesaggio Via Via Sì certo che la vogliono viva Sì certo che la vogliono viva Ah salta Sinner Tieni prima tu a saltare Ah grazie sì Mi stavo guardando io Mero persa Sì sì Si stava facendo il film Come Se seguiva la saga Allora Allora A te Sinner A te Sinner La facciamo nascondere Va a vedere qua sotto Ecco te Te stai così Ma che tristezza No no Vieni qua su Vieni qua su Guardati la scena Guardati la scena Si imbosca Dietro le cose Sta in copertura Oppure no Giapina Con RB Con RB va in copertura Avevi capito che avevo difficoltà Sì Allora Non sparare Non fare niente Non fare nulla Non fare Fino a che quei due Non finiscono a terra E poi Ok E poi Sto fermo qua E poi dobbiamo riconoscere Dobbiamo riconoscere la La tizia La tizia da incapprettare Ok Quando inizia la sparatoria Te vai giù nel tuo gurio E inizia a correre No perché qui i nemici fanno male Fanno veramente tanto 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 male E vedi Guarda in alto a destra C'è scritto Vite dalla squadra Zero Quindi nessuno Si può permettere Di morire Ho capito la fumatura Bene Dai Dai Tanto Tanto Lo sgazzone nella faccia Ve lo beccate entrambe Ecco Ok Corro Vado E guarda È già pronta Mi sento triste Guarda La vedo Là la mignotta Guarda Forse l'ho vista E quella con la camicia Che stava a sinistra Eh sì A sinistra Sì Aspetta Che tocca aspettare Eh aspettiamo Che viene vicino Altrimenti Altrimenti Mark Se le andiamo incontro Sta in cappertia Ah no Sta andando all'altra parte Porca troia Uno sta venendo qua O di me Per non è questo Ok io vado giù allora Va bene Che pare Ecco Ecco La troia Eccola No non è questa Porca la pittana Spostati Non è questa Era un'altra Esatto E quella lì sopra Quella lì sopra Marco Bravo Ecco preso Preso No 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 Porca la troia No Che schiopettata Che ho preso Riprova dall'ultimo checkpoint Mentre ero di fianco a te Porca troia Figli della merda Ti ho detto che fa male Te si nel risotto Nel stugurio Sì Perfetto Quello è un posto sicuro Senti con che gioia No Io ho preso due schiopettate No tre Tre schiopettate Sono morta E ho l'energia Che è tripla Adesso mi hanno messo Adesso sto scappando Andiamo 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 Quindi adesso devo correre per forza Ah ci hanno fatto male Via Oddio Eh scusate Vai nel tugurio No non ho fatto il tempo Presa però Presa 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 Bravo bravo Perfetto Sì no ragazzi Ma sto morendo io State attenti che sto morendo Sono a terra Sanguinante Orca troia Ah niente Posta Sì perché sono rimasta Mi ero imboscata Ma mi ero imboscata Do c'erano loro Ah ok Bene Sedi dove siamo partiti Hai la mia stessa fortuna Che ti vai Imboscare Dove spawnano Bene A me non sono l'unico Io ho detto Sì mi imbosco qua dietro Pem pam pim pum Oltre Te te lo ricordi Dove è il tugurio Per andarti a imboscare Te lo ricordi E ciao Corri 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 dietro Dietro di te Dietro 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 Sì 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 ho capito Da giù in foto Sali 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 Perfetto Sali e scendi Aia Oh no sto scappando col carro Prendi il cavallo Aspetta Mark Ninchia È una trappola Brutto figlio della merda Dai cavallo vieni No Cazzo tre colpi Per ucciderli Vieni qui cavallino Dove vai Dove scappi Vieni Dai cavallo Ma perché non mi fa salire Ma stiamo scherzando Perché non mi fai Non mi fai salire No dai basta Porca la puttana Dio che male Porca Mark Te Mark ce l'avevi fatta Per caso Eh sì L'avevo presa L'avevo allazzata Porca troia Infatti dall'ultimo checkpoint Te Simmeri riusciti a imboscarti? Ero sempre lì ferma Che guardavo il muro Niente adesso Faccio così Scappo anch'io Scappo Cercavo di ammazzare Una gioia infinita No Cercavo di ammazzare la gente Perché dopo inseguono Mark Eh sì infatti Uno mi sta inseguendo Uno Non lo vedo Eh veduto Vai Simmer vai Subito dietro Non è dietro? Sì Un po' diista È diventata il mio personaggio Ok Una stronza Cagna maledetta Schifosa Di merda Oh niente Mi ha sciottato Ti ha sciottato? Eh sì Merda che difficoltà Porca troia Questa è una degna conclusione No no ce la facciamo Ce la facciamo Il tutto sta nell'imbragarla Nell'imbragarla subito Poi dopo Poi dopo Sono punti Guardate mi ha detto Sparare anch'io Con due sciottate Appena ti chiappano i culi Prima me le ha tirate due Ho fatto male Con due colpi muori Non è che mi ha visto Qualcuno sta arrivando A prenderli Perché mi stavano sparando Aggressivo Tre colpi Cazzo Tre Cazzo lo sto seguendo E' rotto il cazzo Pretina Il mio cavallino Eccoti qua Sali su Via 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 Non ti impizza a rire Non ti impizza a rire Ok Sto correndo Sono in sella Sono in sella Sono all'inseguimento Vai Vai Più veloce della luce Vai L'ho ingapettata Cazzo c'è gente qua però Stai imboscata là sotto Ok No Mi chiamano ucciso al pelo Stanno venendo sotto Aiuto l'ho ucciso Mark corri Aspetta mi sta soltanto Merda Sono zero vita Ok Quante sono qui Madonna Madonna Quante sono No 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 dai Che stronza Cagna di merda Mi è spawnata davanti Vaffanculo Cazzo Ma del cazzo Sono spawnate Queste Ma vaffanculo Va Ma non è possibile Ma dai Quando proprio Devi morire Madonna Madonna che mi... Di po' se non mi dai 500 punti di esperienza alla fine di sta cazzo di missione. Puttana Eva. No, 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 no. Ero sopravvissuta all'arrivo di uno che voleva uccidere. Fantastico, Matteo, stai tranquilla. Tanto lì possono entrare solamente in fila indiana. Porca... Ah sì? Via che torna i niti. Ma c'era un cadavere che si è mosso a terra, di che storia. Via! Io sono partita in segomendo. Ehi, adesso... Ok, sono in sella al cavallo, vai! Vai, vai, cavallino, vai! Vai! Ci sono, Mark. Ci sono, sto tentando di raggiungerti. Io gli ho fatto gare da ultimo. Via! Dai, dai! No, 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 non rallentare adesso. Su, per cortesia, eh. Chi è che è morto? Eh... Ah, la Doyle? Brava! Complimenti! Sta cagna di merda. Complimenti! Ah, che pura viva, bisogna prenderla. Sì, 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 tocca prenderla viva. Qualcun altro che vuole morire in questa missione? Anche lei muore, ragazzi. No! Porca puttana. Avrò gli incubi stanotte. No, ma vai tranquilla. È remunerativa come missione, però è difficile. Porca troia. Porca la merda. Oh, casca. Cambia visuale, cosa fai? Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Stavolta mi ha fatto male. Ma... Sicuramente scenderà questo qua. Non l'ho mai visto. Se non viene il cavallo, però... Dai, cavallino, su! Tu, cavallino, su! No! Ok. Io... No. Non ci credo. Non ci credo in piena faccia. Non ci credo. Marche, cambiamo. E poi, niente. Tocca fare un'altra. Tocca fare... Esci con la pos. Tocca farne un'altra con il coso. Tocca farne un'altra più gestibile. Perché se no questa qui ci fa fare domani mattina. Porca troia. Porca troia. E porca. Niente. Troia. Niente. Cinque. No, no. Un altro cazzo. Cinque stelle. Veramente, veramente difficile. Mi sono uscito un'altra. Ma niente. No. Hai fatto livello? Per caso? Sì, sì. E te che vado a vedere. Il tutto per farti comprare la tenda. Ma la smetti di entrare in questo catalogo. Qual è il tuo problema? Cioè il mio? Il nostro? Mamma mia. Aspetta. Cosa sto facendo? C'è qualcuno? Allora, giocatore. Mi fa senno, eh? Eh, vabbè, ma io così non ci vedo, però. Ma perché? Non so quando c'è stata revisione, ma non riesco. Sai quando dà fastidio il bianco sul nero? No, mi sa che non l'ho ancora fatto. No, no, non l'ho ancora, non l'ho ancora. Mi mancano undici punti. Undici. Undici? Undici. Uno sputo. Che, ma undici punti? Undici XP? Sì, sì. Cazzo, adesso ammassa, ammassa uno. Cazzo, 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 cazzo. Una taglia di merda. Dammi una taglia di merda. Una taglia di merda. Una 3S? Sì, sì. A posto. E poi possiamo andare a fare la cosa. Sì, c'è pure un bersaglio. 3S, un bersaglio. Che bello, che bello. Via, via. Vai, dopo questa missione c'è la tenda. Per farti dormire meglio, no? Per farti avere gli incubi. Tutto per una tenda, avviso. Sì, per la personalizzazione. Vai alla tenuta. Andiamo alla tenuta. Puttana, schifo. Che fatta. Scusa, Mark. No, ho troppo di porca, trovi. Quanto era difficile quella lì con 2 della merda. Eh, li tocca essere in 4, minimo. Ok, sarà numero pieno. Perché veramente picchiano, pestano di brutto. Ecco, Mark. È noto. Un certo scroccare il cavallo altrui. Via, doppio salto. Ho saltato anch'io, ce l'ho fatto. Che emozione, vedi che qualcosa che ti segna. Soddisfazioni. Sì, eh, ti segnano. Qualche nota positiva c'è. È un cavallino disperato che ti segui, magari. Che cazzo! Fare danni, dobbiamo fare danni. Ah, ok. Cosa dobbiamo fare danni? È uccidire persone, lo vedi. Ah, era quello, sì, sì. Ea! Sgosto! Ea! Aspetta, non vedo che mi spara. Ah, vai! Aspetta, com'è che si fa? Com'è che si fa a fare quello che hai fatto tu? Aspetta, aspetta. Che cosa? E che, che, usi il coltello. Aspetta che ci provo. Aia, no, no. Che cosa ci provo? Ti ammazzano. No, no. Allora, impugna, vai nella ruota del... No, l'ho coltellato. Bravissima. Esatto. Ecco, mi hanno ucciso, ma vada via. E t'ho detto, hai capito? Devi essere... Devi essere rapida. Perché sennò ti sciottano. No, è stata rapida, è che ce n'erano tre, magari potevo sparare. No, vado a fare il fenomeno. Vai provare il coltellino. Mark è morto. Anche lui. Fu l'altro coltello è divertente, perché... Che proprio li sgozzi. Ma dove mi hanno abbandonato? Ma... Minchia. A cavallo? Eccoti qua. Andavano un pochino distantino. Tesoro. Eh beh, è pure a me, a me ha rozzo. Ma ha sponato. Questi cazzi, complimenti. E ci sono anche dei rosa qui. Di giocatori un po' aggressivi. Ecco. Pareva. Non sono rossi. Potevano rimettermi l'accampamento. Bello spawn. Arrozio è bello lontano, ma ha spawnato. Minchia. Ah sì, anche a me non è che... Porca troia. Poi... Emel è la zona paludosa. Oh ecco, sono arrivata. Ho bagliato il clada. Ah, tutti lontano ha spawnato. Sì. Via. Come fate incazzare? Salta la sipe. No, non si salta la sipe. Adesso si va, si va di cattiveria. Si va. Non so chi sto sparando, sparo a nulla. Te spara. Te se vedi qualcosa muover si spara. Scendi da sto cavallo perché va bene tutto, ma non ho visto... Ecco, è arrivato. Il bersaglio è arrivato, via. Quindi dobbiamo catturarlo, il bersaglio. Eccolo qua. Dai! Fermati! No, 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 no. Eh dai! Cazzo. Oh, via. Ancora figlio, figlio della merda. Cagare. Via. Via. Via, carica. Questi sono punti. Comando, circonnaviga tutta la mappa, eh, per caricare il cavallo. Lì che cosa è il cavallo, ti prego. Oh. Vabbè, cavallino mio, ma ti sei imboscato dove? Ma dove sei andato? I filetrasporti? È andato nell'universo parallelo. Ha scelto... Ha scelto un'altra dimensione. Ah, sei probabile. Questa non gli piaceva. Ogni tanto colpisce quando te lo dice Sara. Certo. Non mancherò, Mark. Non mancherò. Guarda. Ti giuro. E mi non si dice, parà. Via, via, non ho tempo per aspettare il treno. Via. Via. Vado, no. Eh, no. Ah, no. No. Che hai fatto? Mi sono accasciata contro un carro. No. Sarà andato un po' troppo avanti. Sì, infatti. Avevo preso troppo la fuga, Mark. Adesso, tra un po' lo portavo all'accampamento. Via. Via. Punti. Ah, punti. Punti e soldi. Via, via. Via. Punti soldi. Ah. Ecco perché. Vai tranquilla che tra un po' puoi staccare. Fai la tappa all'accampamento. Compri la tenda. Dimmi, sei a livello... Dai, una gioia. Una gioia. Finalmente. Momenti di gio-gioia. Che scusse. Oh, ma che cosa si ora? Andiamo. Scappa, scappa. Scappa che siete st... Cioè, l'omicidio. Scappa. Scappa. Ha tirato... Ma davvero? Sì, 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 sì. Ti rompono il culo, eh. Ma il gioco non gliene frega niente. Ti rompono il culo. Vieni. Ah, sono caduto a te. Ma io non lo so. Hai investito... Oh, Cristo. Sì, la tizia con la gonna che attraversava la strada. Questa l'ha stirata sotto col cavallo. Allora, bisogna attraversare sulle strisce che mondo è mondo. Sti cazzi. Oddio. Ok. Vieni pure alla botteghetta inerante. Cosa ho preso? Prendi che? La birra. Ambriagona. Bevi, bevi. Affoga. Affoghe ti dispiaceri. Scusate. Yeah. Te lo buttano anche addosso. Io mi lavo il viso andando quest'acqua. Sì, che schifo che lì c'è tutta l'acqua l'ercia in quel barile di merda. Che schifezza. Sto andando del sopravvissuto. Per carità. Sì, so già cosa voglio prendere. Eccola qua. Rendo. Andiamo a vedere. Acquista. Adesso voglio vedere dovete la piazza. Eccola. Eccola qui. Guarda. Eccola qui. Eccola qui. Guarda. Eccola qui. Eccola qui. Eccola qui. Già che ridi è una cosa simpaticissima, guarda. Wow. E ci sono passati tutti con questa. Eh sì. Ah che meraviglia. Che senti. Ah, una cosa meravigliosa. Ma almeno si vede. Prima era solamente un saccappello di merda. Dai. Adesso c'hai un po' di... Sa buono. Sa buono. Ecco. La piccola gioia. Finalmente. Ok. La piccola gioia, vedi. Puoi staccare contenta. Puoi andare a letto felice. Senza incubi. Bellissimo. Abbiamo preso la tettoia. Però io non ho capito. Come fa ad esserci la neve nella mia tenda che è tutta coperta. Porca, c'è la neve dentro. C'è la tenda... Una slavina sembra. Una slavina. Perché c'era il vento, capito? È penetrata. Mamma mia. Basta, basta. Basta. Esci. Esci da questo corpo. Esci da questo corpo. Via. Così diamo la buonanotte. Diamo la buonanotte a tutti i disagiati. Via. La live del disagio è finita anche stasera. Buonanotte a tutti e alla prossima. Buonanotte. 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 Sto per uccidere Mark. Buonanotte. Non si può accedermi il fuoco? Ma hai ucciso. Bastardo. Hai fatto il denuncio, capito? Che ne lo fa spesso. Bene, ho concludo la live. Ti ho ascoltato. Ti ho ascoltato. Ti ho chiudo la live con la mia morte. È una cosa tristissima.